L'epidemia di meningite in Italia è soltanto mediatica, il Ministero della Salute rassicura e gli esperti invitano a non ricorrere impropriamente al vaccino. Influenza, l'Asle 4 ha attivato da oggi le procedure per i casi di iperafflusso al pronto soccorso ma assicura l'incremento dei ricoveri è lieve e poco significativo. A Rapallo sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo depuratore. Nel 2018 saranno allacciate le tubazioni in concomitanza con l'intervento per la copertura del San Francesco. Savona attende Monsignor Gero Marino. La diocesi è ricca di esperienze di famiglia, dalla casa Rossello all'Emporio che aiuta i nuclei familiari in difficoltà a fare la spesa. Vivere la Quaresima in Terra Santa all'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi organizza a fine marzo un viaggio che prevede la celebrazione dell'Annunciazione nella Basilica di Nazareth. Il tradizionale presepe vivente della Val Graveglia. Quest'anno in scena ha chiesa nuova di Ne, stasera speciale si può dare di più. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi la sanità in apertura. Il Ministero della Salute in un recente report sui casi di meningite in Italia ha parlato di epidemia mediatica. L'enfasi con cui singoli casi di malattia sono stati annunciati dai mezzi di informazione ha fatto scattare un ricorso improprio al vaccino. Le fasce d'età più a rischio e già oggetto di campagne vaccinali sono i bambini nei primi anni di età e gli adolescenti. Abbiamo sedito l'esperto dell'Asle 4 Chiavarese. I casi di meningite in Italia nel 2016 sono stati 200, un numero inferiore rispetto all'anno precedente. L'epidemia per tante è solo mediatica e sta provocando effetti inutili in alcuni casi dannosi. Ha fatto scattare una corsa alla vaccinazione impropria. Il calendario vaccinali, in particolare quello della regione Liguria, prevede già vaccinazioni contro le meningite da meningococco per fasce di età più a rischio, in particolare i bambini piccoli. Noi vacciniamo a partire dal terzo mese di vita contro il meningococco B, nel secondo anno di vita contro il meningococco C e nell'adolescente con un vaccino quadrivalente a CIVOY. I bambini nei primi anni di età e gli adolescenti sono le due fasce con maggiore incidenza della malattia per le quali la regione Liguria già prevede una campagna contro il meningococco di tipo B e C, ma spesso i genitori rifiutano di vaccinare i figli neonati mettendo la loro salute anche a rischio di malattie debellate nel tempo. Non percepisce per esempio il rischio della poliomielite o della difterite, non sapendo che se noi abbassassimo la guardia non ci vorrebbe nulla per introdurre queste malattie. Parliamo del morbillo per esempio, che è una malattia che sta ricomparendo con migliaia di casi anche in Italia. Il ricorso al vaccino nella fascia adulta è improprio. L'eccezionalità dell'incidenza della malattia nello scorso anno è solo legata ad una zona della Toscana, l'area di Firenze, dove verosimilmente ci sono portatori sani. La regione Liguria indica anche che chi va per lavoro o studio nella regione Toscana per periodi prolungati può avere un beneficio anche vaccinato. In tutti gli altri casi è bene attenersi alle indicazioni che vengono di volta in volta divulgate attraverso le campagne vaccinali. L'informazione la diamo a tutti volentierissimo, ma non per una corsa al vaccino senza nessuna motivazione. Questo è l'appello che faccio a chi ci segue. In questo momento non c'è nessuna emergenza in Italia per vaccinarsi contro la meningite da meningococco. Intanto l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova fa sapere che la bimba di 6 anni di arma di taggia ricoverata ieri per meningite è in costante miglioramento. La piccola è stata colpita da un meningococco di tipo B. La paziente è comunque stabile e in tempi brevi sarà trasferita dalla medicina d'urgenza al reparto di malattie infettive. E l'ASL 4 Chiavarese da oggi ha avviato le procedure per i casi di iperafflusso di pazienti al pronto soccorso con rinferimento alla sindrome influenzale. In particolare è stata attivata un'unità di crisi di 7 posti letto. Tuttavia l'azienda sanitaria locale anche in questo caso ridimensiona il fenomeno. Dal 24 dicembre all'8 gennaio scorso sono stati visitati 1.232 pazienti, di cui 189 ricoverati. Nello stesso periodo, a cavallo tra il 2015 e il 2016, il numero totale di persone visitate è stato di 1.205, di cui 175 ricoverati. C'è stato dunque un lieve incremento quest'anno, ma, conclude la nota dell'ASL, non appare significativo. Siamo al meteo, mentre una parte dell'Italia è sotto la morsa del gelo. La protezione civile regionale della Liguria ha prolungato l'allerta meteo gialla per neve sino alla mezzanotte, ma solo per l'entroterra di Savona. I fiocchi sono caduti non in maniera abbondante sulla parte occidentale dell'Appennino e senza creare particolari problemi. Niente neve in Valdaveto, dove in mattinata si è assistito ad un repentino abbassamento delle temperature con la colonnina di mercurio sul Monte Bue scesa di parecchio. State vedendo le immagini della rete Limet. In questo momento sul Monte Bue la temperatura è di meno 10,8, al Prato della Cipolla di meno 9,3. Sulla costa, invece, la temperatura si assesta intorno ai 5 e 6 gradi. Oggi, ovunque cieli grigi, la nuvolosità domani tenderà a regredire, proprio a partire dai settori di Levante. E per il freddo, a Sesti Levante, il sindaco Valentina Ghio ha autorizzato l'incremento delle ore di accensione degli impianti di riscaldamento. Da oggi e sino a domenica, 15 gennaio, sarà possibile tenere accesi gli impianti per 16 ore al giorno. Andiamo ora a Rapallo, dove sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo depuratore. Adesso occorre pianificare, in particolare, la parte centrale dell'intervento, ovvero quella che riguarda l'allaccio del nuovo impianto con la rete idrica cittadina e con la condotta a mare. L'anno cruciale sarà il 2018. Sentiamo. A Rapallo sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo depuratore. IREN questa mattina ha dato la conferma ufficiale all'amministrazione comunale. I tempi sono leggermente più contenuti rispetto a quanto si era ventilato in un primo momento. In meno di quattro anni il nuovo impianto sarà completato. 26 milioni il costo complessivo. L'obiettivo ora è pianificare attentamente i lavori necessari. In settimana saranno presentati i dettagli. In un primo tempo si lavorerà nella zona di Ronco, ma poi sarà necessario realizzare tutte le condutture per allacciare il nuovo impianto alla rete cittadina e alla condotta a mare, compresa la zona della passeggiata a mare in asfalto. L'anno cruciale sarà il 2018, con una concomitanza. Esaurito nel 2017 il precantiere per la messa in sicurezza della zona La Foce del torrente San Francesco, anche qui nel 2018 si entrerà nella fase importante dell'intervento. Una concomitanza che però potrebbe anche essere un'opportunità, perché darà la possibilità di sistemare anche la parte di servizi acqua, luce e gas, che attualmente sono collocati nel retro del corso d'acqua e che da lì saranno spostati a fianco della copertura. Ci dovrà essere un coordinamento, perché sotto la copertura dovranno trovare posizionamento le condutture che adesso dal centrale dei viabetti vanno alla tubazione a mare. Sono sotto il retro del fiume, non è più possibile, dovranno essere tolte da lì, così come tutti i sottoservizi riguardanti gas, luce e acqua. E tutto sarà posizionato in cunicoli che saranno a fianco della copertura. Questa parte di intervento potrà essere accollata a IREN? Cercheremo di far partecipare IREN a questi costi, perché chiaramente interessano anche il terreno del depuratore, per cui dovranno essere chiamati a partecipare. Prosegue l'aggiornamento del piano di protezione civile a Santa Margherita Ligure. L'edificio del comune, che è situato in zona rossa, non può essere sede del centro operativo comunale. L'amministrazione ha pertanto deciso di realizzare una struttura idonea. Si tratta di un prefabbricato modulare polivalente che sarà allestito in due fasi, nell'area parcheggio del campo sportivo Broccardi di Via Garibotti, posizione strategica per radunare personale e mezzi e pianificare al meglio gli interventi in caso di necessità. Il primo stralcio prevede l'installazione della sala operativa, dei servizi igienici e di un locale di servizio. L'intervento è finanziato con un prelievo di 100.000 euro dal fondo di riserva. Ora andiamo a Sestri-Levante. C'è tempo sino al 31 marzo per rinnovare i permessi di sosta ZTL e ZSL, il cui costo per il 2017 è rimasto invariato. Gli uffici del comune sono aperti dal mercoledì al sabato dalle 9 alle 12. È necessario presentarsi con il pass scaduto, la patente di guida e la tessera a tariffa preferenziale Bofi Park se prevista. Per il pass di tipo residente non sarà necessario compilare alcun tipo di modulo. È possibile effettuare il rinnovo anche online dal sito del comune di Sestri-Levante oppure presentandosi dal 18 al 28 gennaio allo sportello della biblioteca di Riva Trigoso e dal 1 febbraio al 31 marzo a quello operativo al piano terra di Via Salvi. Siamo ora alla cronaca. Andiamo intanto sul sito del coordinamento volontari di protezione civile per la provincia di Genova che segnala un incendio boschivo nel comune di Bogliasco. Lo leggiamo insieme, incendio nel comune di Bogliasco in località Iso e Poggio. In fumo un ettaro e mezzo di macchia mediterranea, il rogo divampato nel pomeriggio di oggi, 13 volontari del coordinamento sono stati impegnati diverse ore nell'opera di spegnimento e bonifica delle fiamme che sono partite ben visibilmente, scrivono dal coordinamento, da tre focolai separati. I carabinieri di Lavagna al termine di accertamenti hanno denunciato per indebito utilizzo di carta di credito e frode informatica un 42enne abitante a Roma. L'uomo nel gennaio dell'anno scorso aveva clonato la carta di credito ricaricabile di una trentenne di Cogorno, dopodiché aveva effettuato una serie di scommesse online per un importo complessivo di circa 70 euro. In seguito alla denuncia della vittima i carabinieri hanno avviato le indagini e soltanto in questi giorni sono riuscite ad identificare l'autore della frode. Siamo così all'informazione religiosa, il Vangelo, i poveri e la fraternità. Sono i tre temi cari a Monsignor Gero Marino che si concretizzeranno già domenica mattina prima dell'ingresso ufficiale come vescovo di Savona Noli. Al mattino Monsignor Marino infatti visiterà il santuario di Nostra Signora della Misericordia, poi l'ospis Rossello dove ricevono cure i malati terminali e infine la mensa di Fraternità della Caritas dove condividerà il cibo con i poveri. Oggi andiamo a conoscere la realtà della pastorale familiare di Savona. Vediamo. È una pastorale che cerca di rinnovarsi quella della famiglia a Savona. Dopo aver lavorato per anni al fianco del vescovo Lupi in uno spaccato complesso ma ricco di potenzialità, oggi è forte il desiderio di costruire insieme al nuovo pastore Gero Marino. La sfida è di trovare gli stimoli partendo dal bene costruito. L'elenco dei percorsi portati a buon fine dalla pastorale familiare Savonese è lungo, dai cammini di preparazione al matrimonio sino all'ampliamento della rete delle case famiglia. È sorta la casa famiglia Rossello che si occupa, grazie alla Caritas, che si occupa delle famiglie in difficoltà, mentre le varie case famiglie si occupano dell'infanzia, quindi dei bambini. Questa è la particolarità di occuparsi proprio dell'intero nucleo familiare. C'è poi un'altra realtà importante di Savona, l'emporio, promosso dalla Caritas, che si occupa delle famiglie in difficoltà nell'affrontare la spesa quotidiana. Le varie persone hanno una loro tesera, ovviamente sono state persone segnalate dai servizi sociali o dal centro d'ascolto della Caritas e anziché ricevere come avveniva o avviene in altri posti il sacchettino con un tot di alimenti che gli potevano servire lì, loro possono andare e scegliere quello che a loro serve di più o aggrada maggiormente. Gli anni trascorsi sotto la guida di Monsignor Lupi sono stati proficui di grande impegno con numerosi volontari che all'interno della pastorale hanno dato una mano significativa. Numerose anche le iniziative organizzate, come le varie edizioni di Famiglia e Festa. Per un certo numero di anni si sono riuscite a sviluppare delle occasioni così di incontro, di gioco, di scambio interculturale e ecumenico. Sono state occasioni di vita comune, quotidiana, ma nella gioia. L'atteggiamento clericalista è ipocrita, lo ha detto questa mattina il Paolo, andiamo sul sito della Radio Vaticana. Gesù aveva autorità perché era al servizio, mentre il clericalismo disprezza la gente. Questo lo ha detto il Papa, sono tre caratteristiche dell'autorità di Gesù che Francesco ha messo in luce nell'omelia di questa mattina a Casa Santa Marta. In particolar modo il Pontefice ha sottolineato che i dottori della legge insegnavano con un'autorità clericalistica, staccati cioè dalla gente, non vivevano quello che predicavano. Vediamo ora invece in Diocesi celebrare la solennità dell'Annunciazione proprio nella Basilica di Nazareth. Sarà uno dei momenti centrali offerti dal pellegrinaggio in Terra Santa che la Diocesi di Chiavari organizza dal 23 al 30 marzo prossimi. Le iscrizioni sono ancora aperte, andiamo a vedere i dettagli di questo viaggio. Ci sono fondamentalmente due nuclei, uno a Nazareth e uno a Gerusalemme. Da Nazareth ci sposteremo verso il Monte Tabor, Cana, Magdala e quindi anche il Lago e quindi con tutte le tappe tradizionali, Cafannao, Tabca eccetera. Mentre invece Gerusalemme, da Gerusalemme ci sposteremo verso Gerico, verso il deserto di Giuda e quindi cercheremo di ripercorrere le tappe della vita di Gesù nella Città Santa. Un cammino anche in avvicinamento alla Pasqua che comunque si starà vivendo proprio in quei periodi. Proprio così. La scelta di marzo è dettata dal cammino quaresimale. Noi pensiamo di offrire questo servizio per la Diocesi. Certamente non si tratta di turismo, si tratta di un cammino interiore e quale periodo migliore può essere se non quello di verità che è il cammino della quaresima. Qual è attualmente la situazione nei luoghi della Terra Santa? Certamente anche qui l'unico modo che abbiamo per conoscere è abitare le situazioni. Non fermarci al sentito dire, non fermarci anche alla semplice lettura dei quotidiani. Noi andiamo tutti gli anni e abbiamo così la fortuna di poter penetrare la situazione al di là di quello che appare immediatamente. La Terra Santa è una terra sofferente, è una terra dove i cristiani chiedono un'espressione anche solidale, una presenza. Per quanto riguarda la sicurezza, che sono sicuro che è una domanda che tutti si fanno e noi possiamo testimoniare, sono due o tre mesi che siamo andati in Terra Santa, i posti stessi del Pellegrinaggi sono posti particolarmente custoditi. Punto di riferimento per le iscrizioni e comunque per tutte le informazioni resta l'ufficio in Diocesi nel Palazzo della Curia. Quali gli orari e i riferimenti? Al martedì e al giovedì tra le 10.30 e le 12.00 in Piazza Nostra Signora dell'Orto c'è la Curia, l'ufficio Pellegrinaggi, dove mi troverete. Altrimenti potrete trovare tutto il materiale necessario sul sito dei Pellegrinaggi che è Pellegrinaggi Diocesi di Chiavari. Vi ricordo i numeri telefonici a cui fare riferimento per poter prenotare o per avere informazioni sul Pellegrinaggio 0185 59 05 52 oppure il cellulare 328 28 91 815. E in occasione del 159esimo anniversario dell'apparizione di Maria a Lourdes l'Unitalsi Ligure organizza un Pellegrinaggio aperto a tutti con partenza dalle cittadine del Tiguglio. Quest'anno sarà possibile scegliere tra un percorso corto e uno lungo. Quello corto prevede la partenza venerdì 10 febbraio alla sera e il rientro domenica 12. Il Pellegrinaggio lungo prevede invece la partenza per Lourdes al mattino di venerdì e poi il rientro domenica. Per informazioni e prenotazioni occorre rivolgersi alla sede Unitalsi presso il seminario di Chiavari aperto il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 oppure anche in questo caso potete telefonare allo 0185 30 88 15. Anche l'associazione Liguri Antichi Rapallin organizza un Pellegrinaggio a Lourdes che si terrà dal 9 al 12 febbraio. Ci sono ancora alcuni posti liberi. Per informazioni occorre rivolgersi ad Emilio Simonetti del negozio Casalinghi di Piazza Cavour a Rapallo. Il tradizionale presepe vivente della Valle a Graveglia quest'anno è andato in scena a Chiesa Nuova di Ne. Immagini e interviste andranno in onda questa sera nel Si può dare di più con inizio alle 21.10 su Telepace 1. Ora ne vediamo un'anticipazione. Il presepe vivente è un viaggio nel mistero della natività ma anche esperienza di dono, quello delle tante persone che lo organizzano, dai personaggi alle arti rappresentate e che vi dedicano tempo e cuore. È stato così anche per i residenti della Valle a Graveglia che quest'anno hanno realizzato il presepe vivente a Chiesa Nuova di Ne, attorno alla chiesa di San Biagio di Garibaldo. Il corteo, partito dalla locanda alla Biagina si è poi sviluppato attraverso gli antichi mestieri. Mariangelo, perché la dogana? Perché un tempo qui c'era il passaggio tra le terre di Parma e Piacenza e Genova quindi pagavano le dazze, pagavano la dogana e adesso è rimasto il nome, è rimasto la dogana infatti anche questi sono locali molto antichi. Sto facendo un paio di calze, non è che si useranno più tanto però nell'antichità si facevano mi sono fatta insegnare dalle persone più anziane però vedo che sono passati tanti bambini e chiedono che cos'è, come si fa e che cosa ne facciamo. E' il vostro ruolo nel presepe, qual'è stato? Sbattere i panni, è stato bello perché era bello riprendere un lavoro di un tempo. All'interno della chiesa di Garibaldo si è poi svolta la consueta recita natalizia dei bambini del catechismo. Qual'è stato il significato che volevate che passasse? Ma l'accoglienza prima di tutto perché mi sembrava cioè è arrivato sto bambino di colore che l'hanno anche marcato mentre lo dicevano e che però subito erano i grandi forse che non lo accettavano cosa che invece i bambini erano felici e hanno anche combattuto per questo e ce l'hanno fatta e alla fine è stata bella. La Sacra Famiglia quest'anno è stata rappresentata da Lucia, Giuseppe e dal piccolo Michael. E' un'esperienza gioiosa e con piacere abbiamo accettato per rappresentare un po' quella che è la mia parrocchia qua a Chiesa Nuova e Don Federico ci ha chiesto e visto che è nato proprio l'8 di dicembre abbiamo deciso di farlo partecipare. Restiamo a Ne, il comune ha reso omaggio al nonno di Giuseppe Garibaldi, Angelo il cui atto di battesimo si trova custodito negli archivi della parrocchia di Garibaldo di Ne e ritrovato dagli studi del professor Gianluigi Alzona dell'Università di Torino. La commemorazione si è svolta ieri per ricordarne la nascita avvenuta il 9 gennaio del 1741 a San Biagio di Chiesa Nuova e state vedendo proprio le immagini dei monumenti di Conscienti e di Chiesa Nuova. Oltre alla questione dei rifugi il Parco dell'Aveto è attento allo sviluppo dell'entroterra anche in un'altra direzione. Il 2017 infatti potrebbe essere l'anno del rilancio della cosiddetta fonte ferruginosa di Prato sopra la Croce. Un'acqua molto ambita a metà 800 e oggi in abbandono. Il Comune spera di trovare 80 mila euro per finanziare un progetto di recupero. Sentiamo. È nel 1846 che la sorgente ferruginosa di Prato sopra la Croce acquista importanza a livello nazionale. Un convegno ne riconosce le proprietà curative. L'acqua contiene ferro, è buona da bere, priva di batteri e utile per anemie o per problemi all'apparato digerente. La notizia contribuisce al rilancio turistico di Borzonasca e nella zona nasce una stazione termale e alberghi per un totale di 400 posti letto. L'acqua ferruginosa interessa personaggi dell'epoca come Prandina, il medico di Garibaldi. A poco a poco però col passare del tempo l'area cade in abbandono ma l'attuale giunta intende riportarla in vita. Fare informazione sulla preziosità dell'acqua e smuovere l'interesse della gente potrebbe portare ad una seconda vita, ad un nuovo rilancio della zona. Il Comune ha progettato una manutenzione straordinaria che comporta la sistemazione del sentiero di accesso che in questo momento è percorribile ma insomma è un sentiero proprio di montagna e quindi lo vorremmo rendere fruibile da chiunque. E poi vorremmo sistemare l'area della sorgente. Adesso è possibile bere l'acqua da una sorta di cattino o di polla e vorremmo creerla in maniera che a limite uno con un bicchiere possa riempirsi il bicchiere e bere quest'acqua. Quanto costa il Comune? Il tutto è 80 mila euro. Abbiamo fatto un progetto 80 mila euro e penso che si possa fare un buon lavoro. Questi soldi ovviamente il Comune in questo momento non li ha. Ecco come farete. Aspettiamo che escono fuori i bandi del piano di sviluppo rurale dove c'è una misura che è proprio indicata per queste cose e presenteremo la domanda con la speranza che possa essere finanziata ma speriamo di sì. Lei ci crede può essere comunque uno spunto importante per un rilancio turistico della zona? Certamente perché oltretutto in quella zona ci sono anche altre iniziative il parco ha predisposto l'apertura dei rifugi a breve quindi i rifugi l'escursionismo le acque il clima secondo noi sopra la croce la bellezza del paesaggio può essere veramente un punto turistico di riferimento importante non solo per Bosoniasca ma anche per la riviera. Saranno celebrati giovedì pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari i funerali di Amedeo Spatafora già docente di educazione fisica all'istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari scomparso improvvisamente ieri a causa di un malore Spatafora era noto nel mondo sportivo locale per la sua dedizione alla formazione dei giovani domani sera invece alle 19 sarà recitato il rosario nei locali dell'obitorio dell'ospedale di Lavagna. Ora la linea agli appuntamenti vediamo così quali sono gli eventi in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 11 gennaio dalle 10 alle 12 si potrà visitare il Museo Diocesano di Arte Sacra in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari al suo interno si possono ammirare dipinti, argenti e tessuti provenienti dalla cattedrale e da altre chiese della diocesi. Proseguono gli appuntamenti con gli open day dell'Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure dalle 10 alle 12 sarà possibile vedere la scuola di infanzia di San Siro in via Romana 13 open day anche per la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Valli e Carasco la sede di via Disma sarà aperta dalle 16 verranno proposte le attività laboratoriali e verranno presentate le aule. Per i corsi di cultura di Chiavari a partire dalle 16 e 10 conferenza intitolata gli inglesi Galsworthy il possidente tenuta da Silvana Rigobello nella sede di via delle Vecchie Mora a Chiavari. Lunedì 16 gennaio scadde il termine per partecipare alla rassegna di poesie d'amore San Valentino innamorati a Camogli giunta alla trentesima edizione occorre inviare una sola poesia inedita della lunghezza massima di 15 righe in lingua italiana con versi composti al massimo da endecasillabi i 20 migliori componimenti saranno stampati ed esposti sul molo del porticciolo di Camogli dal 4 al 19 febbraio il pubblico potrà votare la poesia ritenuta più bella domenica 12 febbraio ci sarà la cerimonia di premiazione per tutte le informazioni potete rivolgervi all'ufficio cultura delle comune di Camogli questa mattina a Chiavari è stato presentato il progetto a fini sociali dal titolo il futuro nelle vostre mani siate affamati siate folli si tratta di corsi per barman e bartender che hanno l'obiettivo di diffondere la cultura del bere bene consapevole e moderato il piano di formare nuove figure professionali con l'intenzione di favorire e incrementare nuove opportunità di lavoro inoltre sarà realizzato un progetto interno e parallelo per il ricollocamento e la professionalizzazione di otto soggetti a rischio o disagiati divisi in due gruppi composti da quattro persone seguiti dai servizi sociali con la previa realizzazione di un corso ad hoc del tutto gratuito i corsi e le relative sessioni si terranno all'hotel Santa Maria a Chiavari a partire dal mese di febbraio 2017 con un calendario ancora in via di definizione il progetto terminerà a dicembre e potrà essere rinnovabile per il 2018 concludiamo con una notizia di sport l'anno agonistico della Chiavari Scherma inizia molto bene in Francia infatti nella prova di Coppa del Mondo su 130 atlete arrivate da tutto il mondo Alice Cassano si è classificata al tredicesimo posto assoluto terza tra le italiane bene anche l'altra chiavarese Andrea Vittoria Rizzi che si è classificata al trentesimo posto le due atlete Fiore all'occhiello della Chiavari Scherma scenderanno nuovamente in pedana per un'altra prova di Coppa del Mondo a metà febbraio questa volta a Udine era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale vi ricordo a seguire il Si può dare di più dedicato al presepe vivente di Chiesa Nuova di Ne per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata arrivederci grazie per la visione